Benvenuti in questa live. Allora, ciao a tutti, nel frattempo vediamo se, come nostro solito, vediamo se il YouTube si degna di far partire il live e poi possiamo iniziare. Luke si presenterà tra pochi minuti, perché lui è come Gesù, tarda ad arrivare. Intanto saluto tutti. Esatto, allora, vediamo intanto se parte normalmente, sembra tutto a posto. Sì, ok, si vede il mio bellissimo... Gio, si vede, sei tranquillo. Ok, è iniziato, perfetto. Allora, iniziamo a salutare un po' di gente, perché la roba di Pocket Row inizierà quando Luke si farà a vivo. Allora, vediamo un po'. Creepy fa i disegni di altri Pokémon, di Pokémon Snakewood? Sì, può darsi, ci sarebbe, devo solo ricordarmi i Pokémon. Ma ho fatto quelle chele. Eh? Giusto, giusto, come cavolo si chiamava? Ombone, on bone. Sì, sì. Saluto a tutti un'ora prima dell'inizio, a Cab Super Sif. Gio è crashato. Porto già gli hashtag, perché, signori miei, dovrete andare alla fine live. Prima di chiudere vi chiederemo chi sarà il migliore. Ciao, Infiniti 2000. Ciao, Rocket. Rocket non è ancora arrivato, mister Graffede. Tanto salutiamo anche Vanessa Chiù. Luca Pravettoni, non è... Gio? No, sono io che sono. Stai laggando. Giano Nuzzo, poi salutiamo anche Frost. Sto laggando, signori? Mi sa di sì. Sto laggando? Sì. Viva l'Italia. Vediamo se... No, non mi pare che... Raga, ditemi se sto laggando o se è Frost che ha la connessione della tristezza. Comunque nel frattempo... Vediamo un po'. Salutiamo e suona il telefono. Salutiamo anche Rachele Folgori. Quanto durano di solito... 11.202. Ma quanto durano di solito le live? Di solito durano un'ora, ma oggi non è iniziata mezz'ora prima perché la faremo durare un po' di più. Mi tanto sei acclamato dal pubblico. Fratelli e sorelle, qualunque male ci sia nel mondo il Papa risolverà tutto con i suoi pugni. Perché vi ricordo che se vi insultano la mamma, tiratele... Stai laggando, stai laggando... Creepy lagghi, beh, che bella vita. Ok, perfetto. Sto laggando. Crespo lagghi. Allora, fatemi chiudere Skype, magari. Stai laggando... Crespo lagghi. Ibrahimovic. Allora, aspettiamo un attimo che torni tutto normale. Nel frattempo, vedete... Sto continuo a laggare, Fabio? No. Non sto più laggando. Datemi conferma se non laggo più. Tanto potete godere dalla vista della mia faccia, anzi no, vi sposto la telecamera sul coso di Frost. Ecco, il suo avatar. A proposito di avatar, sperando che io non stia più laggando, nel frattempo ci acclama il pop. Siamo stupendi. Salutami, please. Non lagghi. T'ho salutato prima, probabilmente non mi hai sentito. Comunque ciao, mi hai finito i 2000. Raga, vi ho salutato più o meno tutti, però a quanto pare laggavo. Penso che... Non te ne freghi un cazzo, Demiolo. Allora. Mi puoi salutare? Ciao Matteo53, 4316. Poi, allora, direi che tutti gli altri li abbiamo più o meno salutati. Come sempre, a senso di stabilizzata. Sì, raga, se laggo, connessione di merda. Italia. Salutami, creepy. Ciao anche a Luca. Rosa Pravettoni, che ho salutato prima. Ciao, Raffaele Di Marino. Atosha, con il segno dei dollari. Ti amo, creepy, sei il migliore. Mamma mia, incredibile. Dichiarazione in like, che cazzo stai dicendo tu intanto? Ah, esatto, passate la sua canale, perché se no piange che non vedete questa cosa. Oh, merda, stai zitta. Parti di scherzi, nella canale di questi due figuri, cioè in realtà sono di Frost, di Frost e di Rock, non so parlare. Troverete il canale sia di Frost che di Rocket, anche se Rocket, come vi ho già detto, e come Gesù, non si palesa. E quindi dovremmo aspettare la venuta del Messia. Quanto enfasi hai messo nella R? Ci manchi, The Story of Frost, spammone. Hashtag almeno 100 like a questo video, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Cioè, mi salutate, si legge Gracian, ok, grazie. Grazie se l'avrei fatto una figura di merda. Gracian, ADC? Ma perché leggo sempre Gracian? Ma che cazzo c'ho nel cervello grecan? Grecan. Ciao anche a Falco, Falco 11202. El Surge lo possiamo trovare in Russia. Al bordo di un aereo abbattuto. Lost non ha una... Comunque 53 è il mio cognome. Minchia. Bel cognome. Cioè, nel senso è figo avere come cognome un numero. Poi 53, ci sta. Cioè, se fai lo youtuber puoi dire, io mi chiamo 53 perché 53 è il mio cognome scritto a lettere. Pensate che figata. Sì, così poi risalgono la tua identità e ti rubano tutto, ciao. E vabbè, cazzo vuol dire mi chiamo Giovanni Cattaneo. Tanto... Mi saluti, per favore, signor Scrippy. Ciao Mindykes. Mindykes. Spero, ti prego, dimmi che l'ho pronunciato bene. Ieri ho sputato su una scala saliva. Madonna, rega. Tristezza. Comunque ditemi se avete apprezzato, signori miei, il ritorno di Misteri Pokémon, che è appena ritornato Just Today. E niente, spero che anche vi sia piaciuta la teoria. Ho già visto dei riferimenti puramente casuali, tipo l'It Surge in Russia. E non sarà l'unico, non sarà l'unico. Infatti penso di portarne altri, dato che ho scoperto altre cose assai fighe. E quindi... Ciao anche a Danna Maria Garraffo. Sì, raga, sono io che... Non sono così, cioè non siete voi che avete i nomi strani. Che cosa... Che cosa ci fa un ginocchio su una collina rotula? State già iniziando a partire con le battute tristi, ma manca Luke, manca lì senza Luke, non c'è... Perché Luke... Cioè, gli fate la battuta triste e tu tipo... No, no. No, no, no. Joe, Cristobal. Tutto così lui, eh. Joe, comprati una connessione. Laghi, comprati una connessione. Eh, Lagho, cosa ci posso fare? Cazzo guardi? Sei zitto e guardi. Cosa ci devo fare? Eh. Aspettiamo altre poche pasta e arrivano quando... Quando mi metto a scriverla. Frost non ha manco una vita sociale, dategliene uno. Su questo non hai proprio ragione, però ok. Andiamo... Vabbè, Frost è una gran vita sociale. Dovete sapere che, essendo dell'annata... Due mila e due... No, uno, che cazzo dici? Non mi dare anni... No, essendo dell'annata... Diciamo... Sotto movimentata per il documentario. Loro escono di casa e camminano. Raga, devo portare avanti io questa live perché l'abbia troppo... E dopo... No, 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 senti... Dopo aver camminato... Succede una combinazione di elementi... Avete presente la combinazione... Le redox. Le redox. Le ossido-riduzioni. Praticamente si uniscono con un altro loro simile... E diventano... Doomspars. Ma che cazzo... Che cazzo stai dicendo, Gio? Non lo so... Quando ti accorgi che devi tirare avanti la live perché... Allora, nel frattempo... Ciao, Whatsapp. Questo è Luca. Aspetta, fatemi controllare. Allora, vediamo un po'... No, non era Luca. Era il gruppo della Flasso. Ok, mutato. Allora, vediamo un altro po' di commenti. Ah, vedi, è morto l'inventore dei cd. Ci dispiace. Vabbè. Ci stanno i misteri, avanti così. Perfetto. Smetti di attaccarti alle linee come gli immigrati gritti. Eh, raga, lo so. Cioè, in senso... Sappiate che se non caricherò video per qualche motivo... 50% è colpa della connessione che salta. Fros lo può confermare. Allora, la gente mi dice che è del 2001. Sono nato il 26 ottobre. Quindi è quasi il 2002. Fros manda avanti sta cazzo di live. Oh, Anna Maria Garraffo ti chiede di essere salutata, ma ti abbiamo già salutata. Ti abbiamo già salutata. Però ciao. Sono sicuro. Però ciao. Quanto cazzo laghi tanto? Tanto. Basta, vado a giocare a Minecraft. Basta. Vedi la mia faccia ferma, ma senti la mia voce. Eh, raga, oggi sarà live laggosa. Non so cosa farci. Io penso che sia facile salutarmi. Lo penso anch'io e per questo non ti saluto. No, scherzo. Ciao Iron Boss. Vabbè, ti conosco più o meno bene. A me è piaciuto molto... A me sono piaciuti molti, molto, i misteri di Pokémon. Bene, bene, bene. Mi fa piacere che abbia riscosso così tanto successo. Allora, 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 allora. Allora, basta. Direi che adesso il lag è la quintessenza di... Cosa grande Rocket? Raga, non c'è Rocket. Raga, Rocket non è ancora arrivato. E la gente gli scrive YOLO. Eh, mio fratello era qui e picchialo. Picchialo male. Allora, aggiorniamo un attimo la pagina, così magari... Minchia, 26 mi piace, signori miei. Ah, io ne ho tre. No, no, non... Ne ho tre. Guardate come spamma, cioè spamma, spamma, spamma. Vuole impiettire la gente. Ma stai zitto, ma stai zitto, va. Ma metti la facecam, povero! Ma non ce l'ho... Cioè, sì, ce l'ho, però non mi fa. Craftala. Sì, la crafto, va, muori. Vabbè, Luke, raga... È morto, è morto, è morto, è morto. Povero, Luke. Creepy, grande misterio di Litsurge, grazie mille. Che sia lag stesso o la live. In realtà, in realtà io l'ho scritto io. Attenzione perché Mindykes, o come si pronuncia, ci enuncia una verità assoluta. Ma non importa che Rocket sia qui, è grande ugualmente. Oh, attenzione, quanto amore esprime. Verità assoluta. Verità assoluta. Raga, non iniziate a spammare canali perché Rocket non c'è, ma quando arriva vi blocca tutti. Perché è moderatore. Ma non è vero. Frost, non mentire, abbiamo visto la tua faccia l'ultima volta. Raga, se andate a vedere le mie prime live, potrete vedere la sua faccia. Allora, se questa live raggiunge 100 mi piace, Frost va fuori, prende una facecam, torna qua e si mette in facecam. No, in realtà io non l'hai fatto vedere. No, invece sì che si è fatto vedere. No, non è vero. Le creepypasta sono fighissime. Eh, lo so. Il problema è che devi trovare l'ispirazione per scriverle. Luke sta derubando i Pokémon di Lit Surge perché ha ucciso i suoi genitori, cioè quelli di Giovanni. Non ho capito. Non ho capito. Luke sta derubando i Pokémon di Lit Surge perché ha ucciso... Ah, ok, perché Lit Surge li ha uccisi. Ok, ci sono, perfetto. Da quanto tempo stiamo streamando? Sono già 13 minuti. Esistono le trote volanti. Sì, Frost è esperto di questo perché lui è il re degli uccelli. Trote volanti, volanti, classificate anche come uccelli. E' arrivato a tutti, comunque. Oh, basta. Raga, tutta la live è ferma. E' arrivato Gio. E' arrivato Pokémon Giallo Cotoletta. E' arrivato Gio. Pokémon Giallo Cotoletta. Eccolo, mamma mia. Adesso si può iniziare. Prima di tutto salutatelo come dei matti. Ah, ragazzi, dobbiamo risolvere un dilemma perché è successo una cosa molto triste in questi giorni e volevamo parlarne un attimo. Ragazzi, Luke, praticamente, non si scrive all'inglese, ma si scrive all'italiano, ovvero L-I-U-C. Ed è una cosa che, veramente, quando Luke ha scoperto che molti di voi lo chiamavano con la versione inglese, si è incazzato, no? Sì, non c'è più il gusto. Praticamente, per colpa di questa cosa, Luke non vuole più farla a Soulink. Quindi questa live deve raggiungere i 200 mi piace per farla a Soulink. Ovviamente scherzo. Per farvi sapere che Luke, da noi, si scrive L-Tipo, ecco, esatto, come l'ha scritto Grayshan, perfetto. Così, esatto. Anche come l'ha scritto Ramai Pokemon 01, esatto, così, lo vedete? Adesso lo scrivo anche in chat, così, in maiuscolo. Così si scrive, si scrive così. Perché non ho fatto un gameplay di Pokemon Rosso Distorto? Se intendi in live, non lo facciamo, perché Creepy Stories ha un PC talmente buono che non si degna di trasmettere le live, di fare live stream, e quindi non riesco a streamare recentemente. Rocket, sei un figo, senza offesa di Creepy Frost. Tranquillo, non mi offendo. Anzi, cioè, io stesso, ammetto quanto Rocket sia superiore a me. Voi dovete sapere che Luke, praticamente, quando verrà giù a Milano, sarà seguito dalle sue reclute. Da una troupe di bodyguard. Noi dovremo sottometterci a lui. Esatto. Esatto, cioè, mamma mia. Non in live, allora, non in live potrei anche pensarci a fare Rosso Distorto, anzi, potrei anche pensare di fare una cop, potrebbe stare una cop su Rosso Distorto. Magari in futuro potrebbe essere un progetto, ah, le live, l'unico posto dove scrivere battute brutte e assicurarvi che le leggano. Ecco. Noto bene che Luke si era adesato la vagina. Mi piace. Che cazzo è, che cazzo è, che cazzo è la scritta, ha il finito duemila. Finito duemila. Vi prego, fate la sua link di oro e argento. Sì, sì, raga, arriva, tranquillo. Mi spammo il canale, mi bloccate, sì. In persona. Con cattiveria. Con cattiveria. Raga, nelle live no, non ci tengo. Io non sono contro lo spam, lo sapete, però deve essere spam normale. Non iscrivetevi al mio K-anale, cioè, non così. Cosa fa un prete in un prato? Rima e basta. Rima e basta. E beh, sono attivati a tutti questi. Ci sta, cioè. In Torino no, sarebbe legare. Il Team Rocket conquistò Milano con l'aiuto di Kripic, ha tradito il suo popolo, infatti. I famosi... Iscrivete. Le famose reclute torinesi. Esatto, ad esempio, adesso Luke bannerà un certo Frost26 che ha scritto in chat quello che non doveva scrivere. Tuttavia, poi c'è da Crabannalo questo ragazzo molto... No, no, fermo, zitto, zitto, fermo. Iscrivetevi al mio canale anche se non ne ho uno. Vabbè, dai, te la posso passare. Vabbè, ci sarà, ci sarà. Eh, te lo faccio. Ma una cosa è sicura, che voi tre siete fantastici, simpatici, carini, gentili, spiritossi e molto altro. Bene, grazie, grazie, grazie. Ciao a tutti, sono appena arrivato. Ciao a tutti, grazie, grazie, grazie. Eh, what? Allora, però... Una borsa di infinite battute riderosa. Allora, però nel frattempo io direi che questi due figure possono anche aprire Paint, no? Perché ci sono i video su Facebook che mi linkano le mie amiche piene di gente che... Cancaroven! Tu, grandissimo! Bermedè! Cosa? Cancaroven! Bermedè! No, raga, basta, io qui qui con il mio profilo Facebook. No, no, infatti... Dai, quello di Cancaroven è geniale! Cancaroven... Top. In effetti è top, cioè... Bifolco! io parto per proprio mamma mia ok devi mettere anche la condivisione primo round signori adesso si inizia dato che Luke è arrivato e adesso praticamente loro si sfideranno su un pokemon che adesso sceglieremo tra i vostri commenti quindi iniziate a sbizzarrirvi e poi quando avranno finito i loro disegni che non ci devono mettere 200 anni vero Fabio esatto poi voi deciderete il vincitore che verrà premiato come sono fatto in faccia quindi io vi posso tirare una cosa sulla mia vera identità ovvero io ho il codino oh beh questa live comunque è fatta così ha un fisico come questo qui che potete vedere può accompagnare solo gli sclerii di Frost sono il massimo io vi consiglio adesso spammo no però devo dirlo perché oggi ho provato a registrare la undicesima parte di Dragostom e stavo catturando a parte che sono dovuto tornare dietro 40 volte per prendere delle MT poi devo catturare un pokemon non per la mia scuola io ho pazzameno avevo 20 pokeball giusto ce l'ho tirato tutte più non è entrato non è entrato vabbè è un pokeball molto facile a catturare mi dicono ci sta davvero subito ho tirato tanti di quei cristi che beh immagino immagino frate ieri ste notifiche mi ha disattivato l'audio figlio di punta figlio di punta ah si non me ne sono neanche accorto io sentivo tim 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 che cazzo è non me ne sono neanche accorto tu che sei il moderatore allora magnifici migliori youtuber del mondo voi dovreste avere un numero illimitato di iscritti grazie mille Anna Maria ecco può accompagnare solo Luke Mann Kids My Kids My Please aspetta devo tradurre ho avuto un cazzotissimo Bidoof oh mio dio ho avuto un'idea pazzesca per Bidoof basta allora arriva un po' chi arriva Gible Bidoof Dragonite Braixen Crippi di dove sei Milano Milano? non sei di Milano stai di Rescaldino vabbè scusatemi ma scusarò cercate musica su google immagini non ve ne pentirete non sono il vostro caro Dexter chissà perché ma mi aspettavo questa risposta non sono il vostro caro Dexter Frost basta che vadano la prima seconda live la tua faccia la vedono Frost ma hai letteralmente lanciato dei Cristi sono andato a prenderli in cielo e ho tenuto una pinza e boom e poi lanciava le madonna allora comunque cosa state disegnando voi altri allora decidiamo un pokemon dai commenti Charizard X li volete morti allora no io disegno un cazzutissimo Bidoof vai allora vada di Bidoof raga Bidoof confirmed Fabio metti la condivisione inizia a notte a mezzo allora nel frattempo Creepy Stories commenta l'attenzione Fabio inizia ad avere degli spasmi inizia a disegnare cose a caso ha disegnato una merda questo è un Bidoof scusami è un Bidoof questo è un Bidoof vedremo 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 tac allora uno due tre allora il Bidoof non è facile da fare comunque no così è facile perché se esistono le cotolette non esistono anche le cotoscritte perché allora c'è una storia c'è una leggenda che circola dietro le cotolette praticamente parla di questo milanese pega cotolette insomma no che mamma mia mamma mia come l'hai fatto è bellissimo sembra un misto fra una merda un Bidoof e Timmy Turner dei fan e genitori giusto hai ragione aspetta come l'hai fatto tu Fiorati che non è possibile per corretti mi tagli tra l'altro aspetta che aborto il capellino allora allora vabbè adesso Fabio cancellerà con l'aborto e farà davvero un Bidoof aspetta allora allora deve essere funziona così se il vincitore il vincitore di questa live cioè fra loro due uno dei due vincerà deve raggiungere entro questa settimana 50 iscritti in più di quelli che ha è la madonna è la madonna ma io non vincerò mai il cazzo il Bidoof non lo so fare e ti guarda che è difficile Bidoof perché guardate tutti la mia condivisione basta perché abbassate il volume si poi arrivano i copi dai no si copia i copi dai per il favore basta il copi dai ma arriva a casa di Inkleberg sono stati l'amore i pantagenitori basta vuoto disegno o meno tanti numeri raga cosa posso disegnare si cani basta raga basta con le patette perché se no questa live finisce prematuramente per il mio infarto raga ditemi un pokemon che potrei disegnare adesso ok allora Luke cancella Bidoof è stato bocciato da Timmy Turner mi stava producendo bene maledetti c'è problema clipi la gente che è in live credo sia già iscritta ai loro canali ma infatti ero ironico ovviamente devono essere 50 degli iscritti degli iscritti di Joe miei iscritti ce ne saranno tre più o meno beh lui e Fabio ha degli iscritti illustri tipo vogliamo elencarli no vogliono mantenere la privacy questi iscritti diciamo uno l'hanno scoperto lui ha degli iscritti illustri uno sì probabilmente uno lo conoscete ma gli altri no poi fate conto fate conto che l'hanno iscritti più popolare che che ho è by 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 non presente in questo momento ricordiamo non presente in questo momento spari l'hanno iscritti l'hanno iscritti più illustre che ho è Federico 95 ita oh o invece Luke tu hai quel ita Bynet, pure io, credo No, 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 il mio no Il mio è PokéCraft, quello più grande Attenzione Quindi quello PokéCraft qua sono io E' questo che volevate dire Attenzione Il mio è Koso Come cazzo si chiapede? Lo stavo dato a saluti a Monique Raga, adesso se eri però Lo decido io il Pokémon perché voi non siete in grado di intendere di volere Vi fanno dire Ivisauri, Ivisauri sarebbe figo Andiamo su random.org, scusate Io me lo scelgo Eh, se è la stessa cosa che dicevo Perché se no non si capisce niente Dai, vado io su random.org, mi metto un attimo la condivisione Ci penso io Allora Come si può mettere la condivisione? Prima però devo aprire internet per casa Forse Allora Random.org Che uscirà? Che cavolo uscirà Ivisauri Non siamo su Fusion Generation Non più al momento Giusto Ok, stiamo su random.org Adesso vi metto un attimino a condivisione Oddio mio Allora Eccoci qua Adesso dovranno disegnare un Pokémon I Pokémon nel mondo sono 720 Fino a prova contraria Generate 706 Oddio, mi sa che vi siete buttati un bel leggendario Il generale di Chaos No, per cortesia Rip Attenzione Vediamo chi si sono beccati Facciamo così Perché se no non si capisce niente tra i vostri commenti 706 No, ho aperto il Pokédex Dio e non ho sbagliato Mi è piaciuto il Pokédex Dio Allora, 706 706, sì Elenco Pokédex nazionale È Gudra È Gudra Gudra, Gudra Non è raga Sotto a disegnare Una cazzata Dai Ragazzi, Gudra Si può fare Ok Gudra Quando avranno finito di disegnare, signori miei Dovrete Come dire Valutare Adorabilità Pittorica Insomma Nel frattempo Dovrebbe essere tornata la mia FaceTime Ora Frost Cancella quella Merda Proprio L'ho già cancellata da secoli Ok, a posto Adoro la tua condivisione Pacchia Secondo che Si blocca Niente Nessun problema Allora, nel frattempo possiamo vedere Luke che tenta di fare un dildo Eh vabbè raga, quello che si riesce a fare è accettiamo Ma che cazzo dici il pisello di Frost Oh no Questo è YouTube, non è un porn Ah sì Allora ho sbagliato live Oh Luke, ma ci siamo sbagliati, ecco Ho sbagliato live, raga Che cazzo Scusate che non mi sconnetto Prendisco il Guta e poi vado sulla live giusto Un attimo Vai Guta e reggi se Nel frattempo la gente che si disiscrive mi fa davvero piacere Grazie vita Grazie mille Grazie di iscritti, siete veramente bravi Anche oggi ho preso un disiscritto Poi ne ho presi due iscritti Non va bene Li vengo a cercare Fabio guarda che non si vede la tua condivisione Prova a rimettere Perché il mio foglio è così piccolo? Non ce la farò mai a fare più Il tuo foglio è così piccolo Eh? Eh? Sembra tipo Sai che da come lo stai facendo Sembra tipo un Tornado Usterian Sì ragazzi mi sa che faccio Tornado Usterian a questo punto Ho dirottato la mia scelta Cazzo Tipo un pinguino Un pinguino con la coda Qualcosa di strano Ma cos'è strano? Mio Dio È difficilissimo Gudra Mannaggia Mannaggia Sì Mannaggia Piano piano voglio i commenti Sui loro disegni Disegnate il Pokemon più bello del mondo Megaudino È bellissimo Megaudino Proprio top È veramente troppo bello ragazzi Ovviamente sono ironico Come non si era capito No No assolutamente E ragazzi Diciamo che Gudra Mi sa che Gudra Vedava senza collo ragazzi Non so perché Ma quella senza collo Ma che aborto umano è Tipo piccolissimo Dio Fai solo il busto di Gudra Sì ragazzi Il collo Diciamo che è un dettaglio Tascurabile in questo disegno Quindi Sì infatti cazzo c'era Scusa Allora lo metto anch'io Solo dal collo Ma sì Intanto È sempre arte questa ragazzi Non importa Sì arte catafrata Sembra uno scorpione Dentro un guscio gigante Ok Con quanta fantasia Raga Sarei mai arrivato forse A vederlo in questo modo Ma dettaglio Vabbè Non importa Raga il Gudra di Luke È ufficialmente afflitto Da nanismo Eh vabbè dai Nessuna ciambella Può riuscire bene Che se ho appena detto Non lo so Ma Nessuna ciambella Può riuscire bene Non lo so Non lo so Non era nessuna ciambella Non tutte le ciambelle Escono col vugo Eh vedi però Non mi veniva più Cazzo Allora Questo Gudra È abbastanza difficile Sembra Majin Bu Con ste trecce all'indietro Creepy mi dicono Che ti sforzi in questa live Calma raga Poi disegno anch'io E lì Ci veramente Ci darà Ci darà merda Il creepy Quando disegna Cazzo Mi dicono Che creepy vince Fra te Poi i vostri disegni Sono sempre supportati Sì Allora Mamma mia Ma io non Io non vedo il Gudra Scusami Aspetta che ci sto rubando Sulla faccia Perché è difficilissima Ma dai non è facile Sembra Poi boh Non lo so Fabio disegna solo la testa Giustamente Perché Il fabietto è tattico Quindi Rip Gudra Vabbè raga Come viene Viene Sentite Ci farò qualche dettaglio Dopo Importante Allora La zampa a sinistra Sempre una vagina Effettivamente Tutto una vagina Sosera Cos'è Allora Niente Non lo so fare Gudra Cos'è sta roba Allora Le ciambele domineranno Il mondo Maurizio Costanzo Con Ferb Perché Maurizio Costanzo Senza cosa Io non ce la faccio più Poveri Pokémon Addio Addio E non sei il solo Che sta soffrendo Per scherzare Disegnate Surreal Power No no Non manche no Povero Poi Mattiero Gli haters Poi Non lo so Surreal Stai raggando Frate O c'è Io non so Quindi Generale Youtuber Di Minecraft Stai saltando davvero Oddio Ma cos'è Stai raggando ancora No no Guardate Grazie Raga Allora Io lo vorrei dire È Il Gudra Che trovate seduto Al McDonald Di solito Intanto Io guarderei Quello di Fabio Che è qualcosa Di più bello Salvo per il fatto Che sembra Composto da linee Un po' Emblematiche Vabbè Ma non è che ho La mano più ferma Del West Cristo Ebbè Minchia Raga Io sto Sto guardando Da Google Immagini Impara Il disegno Di Luke Impara Da Luke Impara Da Luke Queste sigla sono Questa sigla Guarda che bellezza Quel Gudra Ha uno sguardo Tipo Kill me Please Allora Vabbè No No Surreal Power Per favore No Meglio il comodino Dell'IKEA No Hai vinto Magari Luke Rieda Vabbè La zamba di Gudra Sembra Vulva Saur di Pokémon Marron Merda Vulva No Questo è il design Della generazione Di Pokémon Nuova Infatti Infatti Luke Luke non lo sapete Ma in realtà Luke è un cinese A servizio della Game Freak Kill me Please No Solo kill me Non si verete Raga Voti al disegno Di Luke Per favore Ah Che bello Che opera Eh Sì raga Peccato che laggo Non è Cioè in realtà Sì è colpa mia Però No no È colpa di Luke È il suo disegno E come è il disegno Creepy Disegni Anima Che bestemmia Raga Non li seguo Non li seguo Non so neanche Come è fatto Anima io Cosa Vabbè Adesso Non esageriamo Ci sto Ma guarda Non ce l'ho Variamente presente Abita vicino a me Anima Wow Vicino a me Abita Boh Abita Abita Fabietto E Fabietto Allora Diciamo che È abbastanza complesso La cosa Non mi dicono Uno su dieci No 5.6 Vabbè Già buoni Allora La deforme Mette tenerezza Ma sì Alla fine E faccio Un colorato Sembra ancora più Avorto E faccio Cosa Raga Non so se siete d'accordo Ma direi che ha vinto Fabio Poi fate voi Ah sì Oddio Questo è un mitico Goodra Shine Sono una data Riconosciuta Perché non disegnare Fabi J Perché disegniamo Pokemon Non youtuber Creepy Creepy fatti un autoritratto E quanti anni hai Allora L'autoritratto Non lo faccio Perché potreste morire E ho 16 anni Eccoci qua Finito Rogat Se io fossi Te Non l'avrei firmato Quel disegno Vabbè ormai siamo qua Rocchi Perché grigio Ma C'è solo Su Pence Abbiamo soltanto questo Raga C'ha gli occhi Di due colori diversi Sì Ah già Mi sono dimenticato D'altro Eccoci qua Fatto Opera completata Creepy Ma segui Fabi J No Lo seguivo Lo seguivo Già ho iniziato a seguirlo Quando aveva 50.000 iscritti E ho smesso Quest'estate Perché Non mi divertiva più sostanzialmente Disegnate la mamma di Rocket E se fosse quel Gudra La mamma di Rocket Oh Coincidenze Ha vinto Frost Sono d'accordo con Creepy Quindi ergo ha vinto Frost Poi Porca puttana 10 su 10 IGN Abortus of the year Allora Vince Fabio Povero Rocket Genio incompreso Creepy è un 99 Semi 2000 Mi dispiace Creepy è ancora Nel secolo vecchio Ancora salvo io Mamma mia Va bene raga È bello così È bello È molto bello Ok direi che siamo 1-0 per Fabio Direi che siamo 1-0 per Fabio Direi tutta la vita 1-0 per Fabio Anche perché è quello di Fabio Sti cazzi signori Io non l'ho ancora visto Non l'ho mai visto Quello di Yook Dov'è? Non ti fa di niente Cosa è? Chi stai È bello mi piace Chi stai È uno sballo Mi piace Mamma mia Cioè guardate il dettaglio Vuole commentare i miei disegni abortosi Visto che qua inneggiano Prima avevano inneggiato Alla mia Art Contemporanea Mobile Tutto Il Gudra di Rucket È un avulcio obeso Povero 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 Gudra Dai Alla fine Non ha fatto una di male Allora Vai Luke Fama una cosa Luke Vai su Randomor Io metto la condivisione sul mio paint Dimmi che poco ma devo disegnare Io lo disegno Mi farò vedere che abilità servono nella vita Ma scusa Ma non mi rafframe a Luke la sfida No 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 Si fa a caso Si va così a caso Spetta Praticamente adesso Tu sei in finale No? Questo potremmo fare tipo A semi torneo Tu sei in finale Adesso io e Luke ci sfidiamo Chi vince Sfida quello che Sfida te E poi Insomma Allora È uscito il contro 155 Giura È Carnivine Urco Giuda No Purtroppo è Carnivine Purtroppo Aspettate che Ah ok È Fabio che mi scrive Amo Ciao Allora aspettate Vado su Paint io Ok Di avere la mia condivisione Ora Chi lo deve fare Carnivine Chi lo deve fare E tutti e due Io e te Sì No io e Fabio Io e Fabio Ah ok Io sono in finale Ah lo scusate No no è vero Con Luke Con Luke Con Luke Con Luke Perdonate Aspettate Devo fare una cosa Non è mica facile Carnivine Tutti con tutti Quei tentacoli sotto Mica merda Eh allora Con molto Come li hai visti I tentacoli di Carnivine Adesso mi piglio Carnivine Sotto sotto Ci sono quelle specie di radici Le punte Sotto sotto No Sotto 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 Che spesso Allora Eh non sarà mica bello Questa cosa Poteva capitarmi Allora Aspettate Copia Mamma mia Proprio In colla Così almeno potete anche Potete anche vedere La bravura Perfetto Ce l'ho qua Ottimo Allora Creepy Stories Sta per iniziare Si vede decentemente Sì L'importante è che si veda La condivisione Mia e di Duke Si vede Ok Intanto guardate Creepy Stories Che disegna Che è un fenomeno Praticamente Cioè Non ricordiamo Un disegnatore così Si mette al pallone d'oro Pule lui Allora Direi di iniziare Con un sexy Tentacolo Che Ho tirato un calcio Devastante E poi ho sentito Un sisma Fino da me Cazzo Cioè Che è sto bordello Allora Ma No Mi ispira Carnivine da fare Abbastanza Dai Diciamo che Eh Pokémon tuo Questo Team Rock Eh Questo Se lo cicco Facciamo che mi tiro A sto punto Allora Vi ricordate Nelle prime live In cui mi funzionava Ancora la webcam Ma è troppo straobeso Ma come straobeso? Ti ricordi? Sì sì Io mi ricordo Troppo 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 Dio Se li andati a rivedere Perché No Mi è venuto in mente Così a caso Luke 4316 Allora Pulo Per quello Si è rotta la webcam Per quello Dice Un bravo bello Porto Raga Alle braccia di Gianni Morandi Sto coso Sì Alle mani gigantesche Cavolo Sembrano Sembrano delle palle da neve Cioè Assurdo Bye bye Cioè Invece che Pesare 60 kg Su 1,78 Pesavo Sembrava che pesassi 120.000 kg Su 1,3 Addirittura Ti ricordi? Metto una banana Di quello Metto una banana Dice Veramente Di 1,78 E 60 kg Invece che Nella realtà E poi Con la cassa di welcome Mi fa 6.000 kg E un metro di tre Mamma mia Raga La concentrazione Nel fare sto carnivine E voi gli amori Che state facendo? Guarda che mi stai riuscendo Ma cos'è? Come mi guarda? Ma come mi guarda Rocky? Cosa? Rocky è il tuo Quello che mi guarda malissimo Aspettate raga Voglio vedere Quello di Luke Come lo sta vedendo Il mio non ha gli occhi Quindi penso di sì Vedere quello di Luke Voglio ridere un attimo Scusatemi Perché non lo vedo? Luke È crashato No raga È crashato Luke Non ci credo Che sfiga Vabbè Mi rimetterò a fare il mio Dai Arrivo Ok vai Ragmi Sono rimasto solo io Ok Devo commentare il mio stesso disegno Gli ho fatto due pupille Calma Oh Eccoci qua Da porco Non sono stati Maltrattati dei In questa registrazione Ve lo ricordo Nel caso qualcuno Stesse per Arrabbiarsi Tipo Già Sì non è facile Mantenere un commentare Indecente Da soli Spero che torni Presso Ok no è tornato Prima Fabio Perfetto Che tristezza raga Vabbè Fa un culo Allora Mi piace il Tuo nuovo profilo Su youtube Mi piace molto Ah mi fa piacere raga Ci ho messo Boh Mezz'oretta per farlo Anche per capire come si faceva Ok Allora Oddio Un abbraccio Non riesco a capire se è bello Se è brutto Penso brutto Però Non ne sono sicuro Allora calma Facciamogli la bocca Allora Ok Ragazzi ha uno sguardo Troppo perso No ho sbagliato Vabbè Vabbè le mie amiche Che mi scrivono La mia amica Che mi fa Nel tuo profilo Whatsapp Sembri Zoda Se vabbè C'ha Magari Frost E Zoda Davvero Vi sta trollando Tutti Aspetta che mi giro Una Una canna Cazzera Davvero Una canna Quella roba Allora Allora calma Dai raga Non è troppo aborto Cioè un pochino Sì Però Ci può stare Diciamo No è creepy Per piacere Incoraggiate Ci può stare Vero raga Io adesso Non posso leggere I vostri commenti Ma ci può stare Abbastanza Cioè Ok Non è Megan Fox Però Si può vedere Luke Aspetta Aspetta Cazzo Aspetta Ecco Sono tornato Sono tornato Un attimo Grande Luke Vai Luke Ti stavo acclamando Il popolo È già crashato Popolo No Ti immagino Siamo tutti Crash Cazzo Siamo tutti Non ci sono Ci sono Tatata 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 E che che se la ricorda raga Mh Ok 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 Mi hai fatto Bastante Sento Intanto Luke lagga in modo impressionante Sì infatti Luke stai laggando che è una bellezza No guarda figurati Sì Luke stai laggando di violenza A chi va di uscire oggi alle 6 e mezzo alle 6 e trenta Guarda io alle 6 di mattina mi devo svegliare per poi andare a figliare Raga credo che questo carnivale abbia l'ebola Ho sbagliato tutto Qualche malattia del corpo Non lo so Proprio ingordare dentro Non riesco a capire Beh dai oddio Non è venuto Poi troppo ecco Come faccio a zoomare? Non si può Non si può Oh si fanculo Luke Non si può Così ando Tanto mi è diventato Che cazzo è successo? Vabbè non importa Che cazzo è successo? Vabbè lui è Luke Hai riuscito male raga Hai riuscito male pure questo Raga io Non è bruttissimo Cioè solo fargli tentacoli sotto Però c'è di peggio nella vita Nel senso potresti incontrare anche 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 Buono lo so Il mio Guda di primo per esempio Per fare un esempio Penso a svegliarti e trovarti i vostri cammini davanti Eh diciamo Lo sperrei sul colpo tipo Ma si manchi Non ti svegli neanche No Sbagliatissimo Ho sbagliato nell'anima Io sei tornato a 2799 Lo so Lo so Quanto vuoi fare tipo Se ti scrivi quando uno raggiungi i premio Hai capito? Ci sono arrivato tranquillo Apprezzo lo sforzo Ah ma io ho sbagliato le proporzioni Ma che idiota Sfè Saluto Michele Adesso non posso leggere il tuo commento Anche chi? Saluto tu Altoid Ora raga vi saluto un po' tutti Adesso proprio così Potresti incontrare anche Frost Alla meno peggio Chi è il genio? Infinity 2000 Ma mai Ovvio Io la Eh vabbè Bye bye Ok Allora Io almeno ho la decenza di fare palestra Invece che quel ciccione di merda di creepy story Su Mua Mua Mamma mia Soprattutto pesanti queste ragazzi Ciccione di merda puoi dirlo a Luke Non a me Ciccione di merda puoi dirlo a qualcun altro Che non nomineremo adesso Boh io ho finito Però vabbè Diciamo che non è il massimo della vita Guarda che io mi sto impegnando per far stoccarmi Ragazzi mi sa che ho vinto io Mi sa che Fabietto vince Vince Fabio Vince Fabio su tutta la linea Guarda come stanno venendo bene i tentacoli Vabbè per forza vince Fabietto C'è l'emblema La sfida la parola rimane Eh? Se vinco la sfida devo fare 30 iscritti Eh certo Vecchi giunti Vacci piano con Creepy Frost Ma va sto ragazzo Spacco bottiglia e ammazzo famiglia Un sacco di tempo Allora vabbè insomma è un po' Come posso dire Terrore Sproporzionato Che cazzo Dai Non siate così cattivi con il poor little carnivine Tanto è scritto giù di bot Ci dicono Eh raga fatevi gli account files Minchia veramente Ci bustiamo un po' con i bot così Oh intanto saluto Matteo Ho sbagliato qualcosa di te Ascoltare i Green Day Che ha un minimo di decenza nell'ascoltare musica Ole 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 Quel canio è venuto lì Ha ruolato più lì Ultima linea cazzo Non è venuto poi eccessivamente Mi piace due pompe in mano Allora riesco a farlo tipo Dov'è che era lo strumento Ecco lo spruzzino Lo spruzzino Il carnivine di Creepy Sembra che abbia mangiato No Meglio di no Meglio lasciare stare Green Day Vabbè ci sta Ci sta Ci sta Green Day Green Day Voglio fare le filmature Green Day Green Day Eccolo qua Green 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 Day Ci si prova raga Super Pasqualone Ha un super pasqualone alla pancia Ci dicono Il tuo Che cazzo Ha un tentacolo in fiamme Può darsi Che belle Green Day Oh bravi Ma i migliori sono i Pink Floyd Il mio cuore appartiene a loro Oh raga Sono ancora raggando adesso Cosa? No adesso non più Luke Adesso non più Sarà meglio Cazzo Sennò mando Qualcuno della rete Qualcuno di telecom Fa una brutta fine Sennò Quale cattività Connessione Faccio bottiglio Esatto Ok dai Questo è il mio carnivine Voti Please Chi ha vinto Io o Luke Per me o Luke E giù con i voti E giù con i voti Vediamo un po' Luke lag Beh raga Sì ogni tanto può capitare Che laggi Però non potentemente Come prima insomma Poi non è manco colpa Mi erano troppo Eh infatti Quindi Italia Della merda Altag Prey Per Luke Allora Vince Qua mi dicono Vince Creepy Aspettate Quello di Luke Non l'ho ancora visto Finito Uscite quello di Luke Non si vede Sì se lo vuoi vedere Non si vede No non si vede Io lo vedo Vedo la tua faccia Vedo la tua faccia Si è smiccata la condivisione Proprio adesso Aspetta Un attimo Aspettate Sono quasi Fatto Vince Creepy Creepy vince La parte bassa Del carnivine di Creepy È una gonna Con una vagina In mezzo Cosa raga Per me sì Ok Raga direi che vince Creepy Guardando quello di Luke Ma non è malissimo Ma non è malissimo Allora Qua vediamo un po' Creepy vince Creepy Creepy 10 e lode Creepy life Creepy vince Vince Creepy Creepy 9 e mezzo Rocket 7.7 Esiste il problema Creepy vince Creepy Creepy vince Creepy ha vinto Perché il suo Ha già trovato lavoro Creepy Creepy vince A me piace più quello Del buon Luke Creepy vince Peccato che è l'Isis Creepy il tuo è brutto Ma mi dispiace dire Che hai vinto Ok Raga Finale tra me e Fabio Oh Matteo Varone Mi capisce Matteo Varone Mi capisce Aspettate Io però Questa cosa qua Ti vencerò Luke La ringrazio Fabietto Mi vendichi con onore Aspettate che vado Su Wando.org Vado su Wando.org Raga Che io tiro tanti di quei Cristi Che Gesù si offende Allora Il prossimo Il prossimo Ultimo Pokémon Eh Ho paura Allora È uscito il Aspetta 662 Te lo dico No Non ci credo Colum Flame Aspetta No Fletchinder 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 Si scrive Fletchinder Non riesco neanche a trovarlo Su Google Ok Beh è carino però A voi i disegni Secondo lo devo prendere dal telefono Eh vabbè però non vale Cavolo Non puoi dare un po' Pondi tipo C'è la propria degli uccelli Io voto lo Switch Eh ma purtroppo Fabietto Cosa dice di questo Switch Io giuro che ti sacco di botte Un giorno all'altro Che dice di questo Switch Le lo concedi o no? A Carnival Indie Manca solo l'iPhone Per gli autoscatti Si qualche selfie Non gli Non gli sarebbe male Allora Spero che vinci tu Creepy Fate Fletchinder o no? Ti farò per me in chat Eh certo che faccio Fletchinder per forza Mi obbligano C'è gente che dice Switch Allora In i commenti Ci avevo visto qualcuno Però boh No no Vabbè raga Stavo scherzando Io ovviamente C'è niente Switch E poi mi picchia dopo Fabietto Fabietto No porco Sei un intervettore amico Fabietto Mi raccomando Non puoi fallire Questa volta Ok raga C'è un flash Ce l'hanno la mia Aspetta ripeto C'è la condivisione No 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 la condivisione raga Raga no volevo sapere se c'è la condivisione però c'è Sì c'è no no perché se Perché stavi laggando non ti sentivamo bene Cioè io non ti sentivo bene Vai prego Allora dai finiti Fabietto dove? Eh guarda che non è semplicissimo però eh Secondo me Non è per niente È semplicissimo Non è semplice Mi sfrutto le ali Cazzo sono Abbastanza bestemmiose Concentrazione Intanto Se perdo Gio io te lo rinfaccio a via Che nome? Cosa di essere più bravo di te? No Di essere Il cubre degli uccelli Vabbè Vaffanculo Luke come ti chiami nella vita reale? Boh non lo so In effetti è difficile Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Luca Pollo Luca Pollo mi chiamo Mi chiamo Luca Fletchinger così Cioè In effetti Vabbè Penso si ha capito che mi chiamo Luca comunque Sentite la concetta Mi capo Ma prometto che ti sta prendendo bene la sua gomma comunque Grazie Cioè sta ponendo Il volto sta ponendo forma comunque Thanks a lot man Ah come si fanno le zampe E' un piccione a cui si è tolato fuoco Creepy Rai degli uccelli Ci dicono E Vaffanculo a tutti Insomma E' un hashtag Che sta diventando virale In qualche modo Cioè possiamo dire No raga E' sproporzionato Come lo schifo Non lo fate sproporzionato Infatti Si Fate Fletchinger Ok raga Raga se per lo schermo Allora ripartiamo Vedere Gio Piccoli pasti Può disegnare uccelli Raga se lo faccio un po' panciuto Va bene Ma si a massima Come il mio Gudo A massima come il mio Gudo Che si è riempito di Muovo Allora Si rifà Con molta calma Ole Allora E Uno E Due Attenzione Fabietto E tre Fabietto E' di paint Altro che C'è 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 lato merda di brutto Ma che cazzo è Mandy Buzz Ci dico Ma che cazzo è Mandy Buzz Beh Lecind Del sud Bye bye Cuciniamo tanto È bello grasso Allora ok Ci siamo Oh perfetto Ho scoperto L'arcano L'arcano Motivo No Il tuo flash Ci dai incinta Così Il mio Eh sì Ci dicono così Sì Aspetta un po' di Aspetta un po' di Come cavolo si chiamano Uccelli Eh no Come cazzo si chiama La pre-voluzione Fletching Fletching Aspetta qualche Fletching Così Vabbè vabbè Però Questa è arte Questa è arte mobile La mia è merda Pura È merda mobile Insomma Merda di arte Di scattola Attenzione C'è la tensione Che si taglia Che si taglia Con un grissino Perché è un grissino Magari un colte Ma sì Magari Mi dicono Eh no Ma qua da noi Si usa dire Come un grissino Si taglia con la cotoletta A toga Giusto E ci mancherebbe No porco Piccoli Piccoli disegni Che fanno bestemmiare Madonna Mamma mia Intanto salutiamo Giacomo Salutiamo Giacomo Chi ci saluta Che è appena arrivato Bella Giac Bella Giac Minchia Fammi te l'attenzione Mi sa che Abbiamo un vincitore Quasi Cioè Non voglio dire Io non Devo dire niente Perché sono arrivato ultimo A dettagli Grazie Luke Mia Sempre un piacere Sento bestemmi Eh raga Eh raga Io non so disegnargli Gli uccelli Ah 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 Ha fatto tutto Dell'anno XD 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 Che rileva È proprio un burlone Questo creepy story Che coda Che coda gli ho fatto Povero Sì sembra Tipo La cosa La cosa Per spolverare Sembrava prima Cioè Grazie Luke Sempre un piacere E' morto E' morto Beh Lo ricorderemo Per questo Talonflame Cioè Per questo Fletch In veranze Ci dicono Che sembra un tucano Sembra un tucano Ci dicono Vabbè raga Dai insomma Vabbè Diamoglielo buono Puro al creepy Come avete dato buono Il mio carnivine A qualcuno Diciamo che Ci sta Vabbè raga Direi che Si può anche concludere Nel senso Se volete lo finisco Per carità Sembra Però non ne vedo Stagrano Fabietto Come è messo Fabietto Eh beh Comunque Diamo gli atto Che non era facile Fletch Non era Non era fatto facile Eh No Se mi capitava A me tipo Non so Non so cosa disegnavo Una specie di mutante Penso Una cosa del genere Fabio è un po' Che non è possibile parlare Si sente la concentration Proprio Fabietto Vabbè raga Io sto Sto Molto concentrato E tra l'altro Mi chiamano per mangiare Aspettate Vediamo un po' Come viene fuori adesso Proviamo a Salire Eccomi ragazzo Mi sentite Raga Raga Ok si è mutato Raga Oh Oh Mi senti Io si E' lì che è crashato Con che faccia poi è crashato Lol Ah mi dà che ci sono problemi di connessione Quindi non vorrei che la live stia per saltare Sperande no Sarebbe una cosa Altre si triste Assai misteriosa Shit Olè E' un becco di merda Beh ma quelli sono dettagli trascurabili Assolutamente trascurabili Ma perché? Da dov'è che esce? Comunque io Devo andare a mangiare Ok va bene va bene va bene Io rimango in chiamata Ho vinto Mettiamo in chiaro questo Ho vinto Adesso non l'ho neanche visto il tuo in realtà Devo essere sincero Però da quello che mi hanno raccontato Sembra che il tuo sia Guarda l'una Abbastanza Eh beh ci sta dai Adesso direi che comunque tra un attimo si stacca anche la live Anche perché io sono un po' stanco E poi sono rimasto da solo perché è anche lì che evidentemente è cresciato Ok Raga io vi saluto tutti E' stato un vero piacere Avervi tutti qua riuniti per noi tre Quindi Bah io devo andare a mangiare Ci becchiamo per una prossima live Per un prossimo video E ricordate che deve raggiungere i 2250 iscritti Bravo Quindi un saluto da Frost Ciao Ciao a tutti Ok signori miei Allora mi sa che si è rimasti da soli Già E sta anche andando via la gente Quindi adesso direi che vi faccio vedere la fine del mio coso innanzitutto Che sta per abortire penso E poi concludo la live un po' da solo Sperando che Duke arrivi Ok Perfetto Vabbè raga dai Diciamocelo Ok Ha vinto Fabio Questo noi glielo dobbiamo Però Non è bruttissimo Dai Sostenetemi un po' nei commenti qua sotto la live Beh C'è di meglio C'è anche di peggio però Allora ho bisogno di un azzurrino un po' ignorante Tipo questo da portare ai limiti dell'evoluto Tipo così Vediamo se ci può stare No Perfetto Che bella la vita Che piacere Intanto Oh è tornato anche Luke Perfetto Fabio è andato a mangiare? Te lo dico subito Boh Allora almeno sono tornato in tempo Dai Sì sì ma adesso vado anch'io Lì Perché mi sa che tra un po' mi tocca mangiare Tranquida No non è venuto manco mai il tuo Guarda che ci sta Ci assomiglia Ci assomiglia Allora Eccolo qua il mio flash Inder Magari Ci conviene Vabbè raga Non è malaccio Non dite Non è malaccio Ho vinto io Non prost Non dite Non dite a nessuno però Abbiamo Abbiamo 15 testimoni Quindi Ok direi che Si può anche togliere la condivisione Bene 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 Allora Andiamo a vedere la live Sì siamo 14 Se non sbaglio O di più Creepy Luke Mi salutate vi prego Ciao Pocket Girl 89 Ciao Ciao Pocket Girl Ciao Creepy Per me il tuo flashing era più bello Ho vinto io Io preferisco il tuo Attenzione Brazzo Creu sarebbe Piero Buonasera Sono arrivato ora Buonasera anche a te Attenzione Domanda Sul calcio Creepy Sei contento La partita di ieri del Milan Non hanno giocato male Alla fine Mi aiutava più della Roma Panico dove ho sofferto Come un cane bastonato Per il resto Non ho giocato Non ho giocato molto Allora In questo senso Ha raggi di connessione Mi dicono proprio Però tempo Vedo Si insulta per il calcio Creepy Sei contento Ah ok Mi sa che ha vinto Creepy Ok Fabio Inisco il tuo Uncello Creepy Poco amigua Mi salutate Vi prego Ciao Letizia Brevi Ciao 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 Bello il cane Purtroppo Aspetta Purtroppo È così Stiamo streamando Siamo anche Siamo anche abbastanza Laggando Purtroppo Tutte e due Così Giusto per darmi Un tempo Perché Stiamo laggando Un po' Tutte e due Purtroppo Anche perché sta andando via Sempre meno connessione Connessioni con le belle proprio Luke usa la forza Dopo quel video la forza Mi sa che non ce l'ho più Si è azzerata Si è azzerata purtroppo Allora se volete È crashato Ah no sembravi crashato Sembravi crashato di potenza No no ci sono Ma stasera non so che succede Ma Frost Come si suol fare a Genova Frost è andata a mangiare la pasta col pesto Comunque vince Creepy Quindi raga mi raccomando disiscrivetevi Dal canale di Frost No scherzo poverino se no muore Madonna quando ti blocchi Fai delle facce che farebbero fare la DR A razzo Eh vabbè Allora buoni signori Direi che abbiamo finito con i disegni Siete rimasti in pochi Quindi vabbè se volete fare delle domande Così almeno Ce le perdiamo Se volete trasformare questa Ultima parte del live Diciamo in un mini fact time A più mini La mini domanda Mini mini Quindi raga Dieci minuti Anche perché la mia connessione Sta andando a Jinx Eh siamo in due Mi sa che siamo in due Intanto mi salutate Ciao Matteo Ciao Matteo Non scherzo Non scherzo Mi hai trovato Grazie 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 Quello di settimana Che richiedeva molto impegno Soprattutto per passarci video Portarvi due video al giorno Potremmo aspettare solo le vacanze Questo vuol dire che Come minimo Come minimo ci dovete dare le vacanze di Pasqua Quindi fate fine marzo Fine marzo Fine marzo Esatto Domanda Poche pasta preferita Allora non so se Luke le conosce Per poche pasta intendi quelle già scritte Non quelle che ho scritto io Comunque Se parli di quelle già scritte A me piacque molto Ma molto molto La poche pasta Quella Adesso non so se la conoscete Aspettate vi vado a cercare il titolo Perché non me lo ricordo Allora Creepypasta Ita Italia Wiki Eccolo qua Nel frattempo Luke Leggi un po' di domande se arrivano Allora ci dicono quali sport avete praticato Solo calcio io Poi vabbè Io basket Cioè senza Cioè senza partecipare a scuole e tornei Gioco a ping pong Nella cavicchio anche Però nel senso Pratico nel senso di Aver fatto Diciamo agonisticamente Ecco solo calcio Io ho fatto due anni di basket Invece Allora Allora Io l'immagino di Che va al certo Mamma mia Cioè Tazzo tempo e bye bye Allora Quindi quest'anno qui Sono esercita Sul link No no Sul link Le prossime vacanze Abbiamo detto E poi Sto link arriva Però ci dovete dare del tempo Insomma Allora Come facevo io a ordinarle qua Per avere solo le Eccole sotto Impasta poche pasta Eccole qua Allora Non mi ricordo il titolo Però io ricordo che Fu ai tempi Una cosa Che mi fece Assai cagare Lacrime dai tempi antichi Lacrime dai tempi antichi Che è una creepypasta Che io adoro Nel senso il pokemon In generale Ma anche la creepypasta Su Yamask Ho già parlato Nella scorsa Di Yamask Ho già parlato Ah sì Quella di Yamask Mi piace anche a me Dicevo Quella di Yamask Mi piace anche a me La teoria di Yamask Mi piace anche a me Poi ci dicono Luke fai una posa Per i meme Eh ma quale Ce l'ho già fatto Un po' di pose brutte Cioè Nella live Diciamo Ho già fatto No? Vero? Ecco appunto Allora Gondola spacca i culi Ovvio Luke parla toscano Ma mamma Intanto domanda off topic Che scuola fate Io faccio il liceo linguistico Mentre invece Luke Fa la terza elementare Luke fa la terza elementare E mi hanno pure bocciato Quindi secondo voi Che tristezza Bocciati in terza elementare No Faccio il primo anno di università Ma dovevi fare il secondo però Potete passare dal mio canale Consigliarmi qualcosa Sì magari dopo Io ragazzi Se avete dei consigli sul canale Dato che so Che è sempre difficile crescere Che si vuole sempre aver consigli Lo faccio sempre Se me lo chiedete Se trovo il tempo Mi piace sempre dare consigli alla gente Ma adesso non in live Perché non sarebbe il caso Chi è toscano? Nessuno Il buon Giacomo fa anche Toscano nei commenti Poi Grande Giacomo Bogadè De Allora La tua domanda Provate e vediamo Duke Prova a parlare in toscano Se non dà chi come lo schifo Sto laggando? No 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 Prova a parlare in toscano Vediamo cosa riesce Vediamo cosa riesce a fare Vediamo cosa riesce a fare Vediamo se di Bogadè Ascoltando Dario Moccia Qualcosa Non è che mi ricordo tantissimo Cioè Bogadè Ecco appunto A parte il Bogadè Nei commenti Bogadè Creepy farei una serie Su Pokemon Xenoverse No raga Non mi piacciono i fan game Non li farò Presumibilmente mai Comunque Potrei anche pensarci A fare Nel senso Portarvi la demo di Xenoverse Però Cioè Già vista L'han fatta Federic L'ha fatta Frozen Cioè l'ha fatta in 120 Non me la sento Mi parla L'ha fatta Guido L'ha fatta un po' tutti Eh l'ha fatta tutti Nel senso Non perché non mi piaccia Tanto un gioco corto Ci metterei un episodio a farlo Che d'altro La vedete in tanti Creepy parla siciliano Ci dicono C'è proprio Ah non lo so parlare siciliano Come cazzo si fa siciliano Non lo so rag Pokemon preferito Ninetales Pokemon preferito Tutta la vita Ninetales E' mio Hunchcrow Comunque Raga Ultima domanda Qualcuno me l'ha già detto Cosa ne pensate Del nuovo avatar del canale Se l'avete già visto Se ve lo aggiorna Creepy è uscito Nuova demo di Xenoverse Sì sì lo so Infatti Esatto Proprio oggi Parla sardo Non sono frozen Luke comunque Non so se sono io Ma la tua faccia Cioè la tua facecam Non si vede praticamente Cioè sei fermo Hang out Giova hang out Che fa Hang out Posso Posso Aspetta Mi vedi adesso Serie preferite Che avete portato sul canale Aspetta provo Vediamo Provedermi No no Non è che non hai la facecam Sei C'è una faccia Ferma No hang out Hang out Non importa Comunque Sta live Sta sciimando Nell'altri Serie preferite Che avete portato sul canale Allora Direi a soul link Perché è stato un progetto Della madonna E ha riscosso un sacco di successo Anche snakewood Che è stata quella Che mi ha lanciato Un pochino Nel mondo Dei big di youtube Tra i grandi di youtube Tra i grandi di youtube Diciamo Però io direi La soul link Perché davvero Ho avuto un seguito Pazzesco E mi sono divertito Un sacco A registrarla Soprattutto Mi sento Mi sento d'accordo Alla fine È stato un grande progetto Comunque Non sento più l'audio Strano Eh ma raga Forse è saltato per un attimo Eh ma infatti La concludiamo la live Allenatore Campione preferito Camilla Vabbè Campione Campione Lens Non si scappa Allenatore Boh È difficile Allenatore Creepy Luke Fate una challenge A vostra scelta Raga Non adesso Perché il tempo Sta per scadere Avete in programma Nuove serie No Non per ora Prima finisco Megapower Poi penserò Un let's play Secondario Da portare insieme Alla chestlock Che potrebbe essere Anche una crombolendo Dipende Dalla mia voglia Da ciò che voglio portare Io insomma O comunque al massimo Ebola Farò un sondaggio Ebola confirmed Insomma Eh Hashtag abisso Abisso Mamma mia Genaro Bullo Ok Vabbè Direi che Adesso si può Concludere qua Anche perché Come sentite La connessione Ci sta lentamente Abbandonando E mi sta ritornando Il fottuto Mal di gola Quindi Io direi Che se questa live Vi è piaciuta Potete anche Lasciare un bel like Magari scrivete O se volete Ricevere una benedizione Scrivete Con l'hashtag Hashtag Mi raccomando Come l'abbiamo Dato inizio live Altrimenti Non 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 vi dà La benedizione Liuk Esatto Adesso vi darà La benedizione Non c'è Liuk Per Ci sono Ci sono Giova Per le benedizioni Eh Ci sono Ma Sta lagando malissimo Però Non ti sento quasi più Però Ah addirittura Adesso Ti sento veramente Scattissimi Ti sento Pure adesso No Adesso ti sento bene Però c'è stato un momento Che non ti sento più Allora Ciao Matt Poi Ciao anche a Luca Ciao Absol Salutiamo tutti Saluto tutti Se mi sentite ragazzi Ciao Enrico Lala Eh non so come si Lala Spero si pronunci così Creepy Lagone Infiniti 2000 Visto colpisce Carica un video Croix89 Cheat Creepy Creepy ti piacciono Le campionesse Furbacchione Vorrei dire Signora Campionesse Che il competitivo Riuscirebbe a giocare Ci sta Per questo Ciao Salvatore Raga Non la volete La benedizione La benedizione Di Luke La benedizione Di Luke Che scrive La benedizione Di Luke La benedizione Pierlo Comincio Quello pronunciato Bene Grande Grazie Mi benedico Tutti Lì Lì Si No muoi Io Ciao Ciao Anche Ciao Anche A Thomas 95 Che ci dice Che deve andare È stata una bella Live Che ti sia piaciuto Ciao Jack Ciao Ciao Fabietto Intanto Che è entrato Questa è la connessione Italiana Ciao Master Ciao a tutti È morto Degnatore Ciao Grecian Ciao Salagando Fabietto Tornato lo stronzella Live Sì È tornato No Vedi calmi Bruttamente Eh Termina qua Vi saluto Vado a sfogarmi Qua perché è entrato Creepy Sembra che stai morendo Eh lo so Vi saluto di carciofi Freak Io E vado a strafogare Madre Madre Di 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 Ciao 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 Grazie a tutti.